San Bartolomeo di Sarzana, paziente armato di estintore blocca le attività delle sale operatorie. Allerta meteo gialla da questa sera attese forti precipitazioni su tutta la Liguria. Chidaria, la start-up che trasforma le vinacce delle cinque terre in prodotti cosmetici. Prefetto Gabrielli, il ruolo dell'intelligence nello scenario geopolitico. Spezia Calcio, vigila di campionato per le acque le attese al delicato scontro salvezza di Salerno. Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del TLS giornale. Entra di notte nelle quattro sale operatorie dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana e scarica quattro estintori sulle attrezzature. Un gesto che non trova spiegazioni quello compiuto l'altra notte da un paziente e che ha comportato la temporanea sospensione delle attività operatorie. Sono 17 gli interventi saltati e riprogrammati nei prossimi giorni dall'asile 5 della Spezia. L'uomo ieri sera era stato ricoverato sotto osservazione al protosoccorso di Sarzana per una crisi stenocardica. Poi si è recato in bagno e gli operatori non vedendolo rientrare hanno forzato la porta temendo che potesse aver avuto un malore. Invece era fuggito dalla finestra. Sono state le forze dell'ordine a trovare nel parcheggio dell'ospedale con ancora in mano un estintore. Il paziente è stato portato all'ospedale Sant'Andrea della Spezia per accertamenti. Per ripulire le quattro sale operatorie della polvere degli estintori e per permettere la sterilizzazione saranno necessarie almeno 24 ore. E cambiamo argomento. ARPA l'ha emesso per l'alerta gialla per temporali che interesserà tutta la regione a partire dalle 19 di oggi fino alle 15 di domani. Nelle prossime ore sono dunque attese precipitazioni da prima sparse e poi più diffuse su tutta la Liguria. Si prevedono rovesce temporali anche di forte intensità. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi gradualmente dalle ore centrali di domani nel Ponente, mentre sul centrolevante isolati fenomeni saranno possibili fino a tarda sera. Il prefetto Franco Gabrielli, sottosegretario con delega ai servizi segreti, ha parlato questa mattina nel Salone della Provincia sul ruolo che l'organismo dell'intelligence svolge nell'attuale contesto storico che vede in corso una guerra, che a detta del prefetto penso purtroppo sarà ancora molto lunga. Vediamo in servizio di Riccardo Sottanis e Raffaele Maulella. Prefetto Franco Gabrielli, come è cambiato lo scenario geopolitico con la guerra in Ucraina? Il 24 febbraio ha rappresentato uno spartiacque importante e lo ha rappresentato anche sul versante dell'intelligence perché per la prima volta si sono utilizzate le informazioni di intelligence per provare in qualche modo a mettere i soggetti coinvolti nella condizione di sapere che si sapeva e quindi provare a utilizzare preventivamente le informazioni per cercare in qualche modo di rendere gli effetti di tutto quello che si stava preparando meno incisivi. Purtroppo le cose abbiamo visto come sono andate, la cosiddetta operazione speciale, che altro non è che una guerra di aggressione, c'è stata però ha introdotto nelle modalità con le quali si gestiscono le informazioni che per loro natura dovrebbero essere riservate, invece come una sorta di grimaldello, una sorta di elemento di pressione sulle decisioni di chi deve assumere importanti decisioni a riguardo. Teremoti, l'affondamento della Concordia, l'alluvione nel nostro territorio, qui nelle Cinque Terre e in Val di Vara. Lei fu tra i primi ad arrivare a rendersi conto di quello che era successo nella nostra provincia. Come la trovò e cosa si fece? Beh, insomma, quello fu un evento particolarmente importante che portò anche un seguito di lutti perché morirono delle persone e quindi quando in queste vicende ci sono perdite umane tutto assume giustamente un rilievo importante, ovviamente un evento che segnò una delle zone più belle del nostro paese, le Cinque Terre, quindi con tutto quello che comportava anche da un punto di vista dello strascico poi successivo. Devo dire che poi questo è un territorio, è una comunità che ha la capacità di reagire. Da Via Reggino come ha trovato la nostra città, la nostra provincia? Beh, intanto io sono di Montignoso, io sono nato occasionalmente a Via Reggio ma io sono montignosino della provincia di Massacarrara, quindi voglio dire una provincia contigua a mia mamma è stata per tanto tempo a Sarzana, quindi voglio dire questi sono territori che in quota parte sento miei, quindi quando ritorno, ritorno sempre molto volentieri. E veniamo ora alla cronaca, una fuga durata due settimane. È stato rintracciato e denunciato il conducente di autocarro che il 7 ottobre scorso era sfuggita ad un posto di blocco in Via Monfalcone. Dopo essere stato sorpreso in stato di ebrezza, non nuovo a reati di questo tipo aveva fatto perdere le proprie tracce. Le indagini condotte dalla polizia locale che da giorni ne presidiava l'abitazione e i luoghi da lui maggiormente frequentati, hanno portato nella mattinata di ieri all'identificazione del 49enne residente in città, questa volta incapace di fuggire. L'uomo è stato denunciato per aver rifiutato la prova etilometrica e ora rischia un'ammenda fino a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi a un anno. E veniamo ora al quotidiano bollettino da Covid-19. Sono 896 nuovi casi in Liguria accertati nelle ultime 24 ore tramite 5550 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Alla Spezia i nuovi positivi sono 144 e i casi attivi 1.869. I ricoverati a livello regionale sono in totale 251, 11 dei quali in terapia intensiva. I nasal 5 invece scendono i ricoverati da 37 a 34, con un solo posto occupato nel reparto dei casi più gravi. Tutto pronto per il via alla produzione dello sciacchietrà, che partirà lunedì. Prodotto di punta conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, siamo andati nella Cantina Sociale delle Cinque Terre. Ce ne parla Riccardo Sottani, se le immagini sono di Davide Morina. Ci troviamo nella sede della Cantina Sociale delle Cinque Terre, con noi uno dei 200 coltivatori della Cantina Sociale, Lucio De Battè e l'enologo Gianfranco Vita. Alle mie spalle vedete l'uva che è stata messa a dessicare e che da lunedì verrà trasformata in sciacchietrà, verrà pigiata qui nella cantina e si trasformerà in sciacchietrà. Lucio, un riconoscimento importante da tutta Italia per questa Cantina Sociale. Sì, anche quest'anno, riguardo alla vendemmia 2021, sono arrivati dei premi prestigiosissimi che erano già arrivati per le vendemie precedenti, ma ne cito solo alcuni perché sono talmente tanti che facciamo fatica a ricordarli tutti. Premio Corona, Amerano Wine Festival, il salotto buono della viticultura italiana, dove ci sono i premi più prestigiosi, riguardo a Vigne Alte, una delle nostre selezioni, 2021. Poi, per esempio, Medaglia d'oro al Cervim, riguardo al vino, una dei tre cru Costa de Posa, 2021. Poi un altro premio prestigiosissimo, per esempio, Bottiglia a Slow Wine, 2023, significa un premio generale per quel che riguarda tutta la gamma dei nostri vini. E sempre su Slow Wine, vino Top Wine, riserva, sciacchietrà, 2018. Questi sono premi incredibili perché nell'immaginario collettivo, caro Riccardo, non è che le cantine sociali venivano in passato riconosciute con questi premi, ma veramente è un indice di grandissima qualità e una crescita qualitativa dei nostri vini. Ecco, una funzione sociale è quella della cantina, lo dice il nome stesso, perché la cantina riesce a remunerare gli agricoltori ad un prezzo importante, anche in questo periodo difficile dell'economia. Vara, Riccardo, ti rispondo con la frase del professor Fregoni, il più grande luminare in Italia nel mondo del vitivinicolo. Non c'è posto al mondo dove sia pagata a un prezzo così alto l'uva conferita alla cooperativa, ma nello stesso tempo, dice il professor Fregoni, non c'è posto al mondo dove sia così faticoso ed estremo fare viticoltura. Scusa, siamo nel santuario dello sciacchietrà. Ecco, tutti questi 110 quintali di uva, quante bottiglie forniranno? Circa 8500 bottiglie, ovviamente la bottiglia da 37,5 centilitri, che è il vestito classico dello sciacchietrà. Quest'anno è una grandissima annata, possiamo dire così, estate 2022, la più feroce siccità della storia. Vendemia 2022, la natura riesce sempre a sorprenderci e ci ha regalato per l'ennesima volta una grande emozione. Durante la vendemia, iniziata prestissimo, 27 agosto, non abbiamo trovato nessuna traccia di stress idrico nei grappoli. Abbiamo trovato una produzione fantastica, infatti i 110 quintali di uva da sciacchietrà conferiti dai viticoltori in Cantina Sociale dimostrano la grandissima annata qualitativa da tutti i punti di vista. E restando in tema, andrà in onda proprio lunedì una puntata speciale di TG Zoom a seguito del TLS giornale. E restiamo ancora in tema, perché sono belle, buone e politically correct, le uve delle cinque terre. Anima di Kidaria, la start-up nata dalla ricerca del team Smart Bio Interfaces, che utilizza gli scarti di torchiatura di un particolare mix di uve autoctone delle cinque terre per una innovativa linea di cosmetici anti-età. Kidaria può contare su solide basi scientifiche grazie a progetti di ricerca finanziati tra gli altri dal Ministero della Salute e delle Agenzie Spaziali Italiane ed Europee, che includono lo studio dello stress ossidativo come causa di invecchiamento precoce e di specifiche patologie degenerative. Confartigianato La Spezia ha partecipato a Genova alla decima edizione della Borsa Internazionale del Turismo e Culturale, l'evento annuale organizzato dall'associazione Mirabilia Network. Nel corso della manifestazione sono stati organizzati incontri tra buyers d'eccellenza provenienti da tutto il mondo e sellers dai 18 territori appartenenti alla rete. Domani, sabato 22 ottobre 2022, alle ore 17 al Camec, avrà luogo la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento She Made a Difference, Donna Leader 2022, assegnato dal Network Europeo per lo sviluppo della professionalità femminile guidato da Franca Guidotti. Ce ne parla Andrea Catalani. Presidente, dunque nella quasi imminenza direi ormai di questo più che ventennale premio vogliamo intanto ricordare cosa vuol dire essere Donna Leader posto che deve essere spezzina. Per noi essere leader significa avere raggiunto degli obiettivi di professionalità ma anche nei campi dell'arte, delle scienze, di aver raggiunto appunto degli obiettivi importanti e di aver soddisfatto quelle che erano le aspettative, diciamo, naturalmente con la passione, l'impegno e tutto quello che serve per fare una carriera di successo. Possiamo anticipare chi è che premierete domani con inizio alle 17 al Camec, giusto? Sì, la cerimonia avrà inizio alle 17 sabato pomeriggio. Le tre premiate quest'anno saranno una manager e una ragazza premio primavera che è una sportiva e l'altra è un interior design e specificatamente sono Alessandra Taravacci che è l'interior design e anche illustratrice di libri per i bambini. L'altra ancora è Roberta Busticchi che è l'amministratore delegato, nonché il presidente della Siemens Health Care Italia e è stata nominata proprio quest'anno, all'inizio dell'anno. E poi invece Benedetta Madrignani che è una ragazza del liceo scientifico e campionessa nella spada e nel fioretto. Prosegue l'appuntamento con Libriamoci alla Mediateca regionale Fregoso. Leggere ovunque, leggere comunque. La rassegna culturale è dedicata alla promozione della lettura organizzata dal sistema bibliotecario urbano del Comune della Spezia. Domani alle 9.30 e 11.30, Laboratori per Bambini, Siamo Tutti Speciali. Letture di brani dal libro Favolette di Qualcuno di Ilaria Moggia. Mentre alle 10.30 appuntamento con Enrica Salvatori per Quale Medioevo Spezzino. Cinque punti di partenza per riscoprire il golfo nell'età di mezzo. Premio Spiros Argiris a Sarzana, concorso internazionale per cantanti lirici, giunto alla 22esima edizione in programma quattro serate. Ce ne parla Italo Lunghi. Dottor Caporuscio, dopo i successi estivi del Sarzana Opera Festival, un altro momento altrettanto significativo nei prossimi giorni a Sarzana. Che cosa succederà? Sì, è vero, dopo il successo di quest'estate, con spettacoli di vario genere che abbiamo presentato e anche nuove proposte, vedi ad esempio la grande danza con la Rachele Buriassi, avevamo promesso che l'edizione, la 22esima edizione del concorso lirico si sarebbe svolta in ottobre perché vi erano difficoltà post-pandemiche. Infatti siamo qui, nell'ultima serata di ottobre si svolgerà questa edizione, divisa praticamente in tre momenti. I giovani cantanti saranno valutati da una grande giuria internazionale, Ernesto Palasio, Fabio Armiliato, per l'altro per fare due nomi e poi i più meritevoli potranno partecipare a una settimana di stage tenuto dalla grandissima Raina Cabayvasca e si concluderà il tutto con la serata di gala del 31 ottobre. Un'opportunità per gli amanti della musica lirica che potranno partecipare ovviamente ai momenti pubblici, come fare? Allora, la gratuità del biglietto rimane sempre la nostra mission, noi abbiamo come mission, come comitato di diffondere la musica lirica. Ebbene, anche il concorso naturalmente avrà un tagliando, che vengono tagliando sia la serata per la finale sia per il galà, li andremo a distribuire da oggi davanti al comune con dei volontari che danno i biglietti fino all'esorimento a posti. Naturalmente il teatro in Pavidi ha un numero abbastanza limitato, di posti sono solo 300, quindi chi prima lì va meglio alloggia e quindi chi prima viene naturalmente avranno la possibilità di poter partecipare. Le serate sono due alle 20 e 30. Tutte e due al teatro in Pavidi. Qualche ringraziamento particolare? All'amministrazione comunale innanzitutto, alla regione Liguria e soprattutto anche in questo momento ai ragazzi che gestiscono gli impavidi, gli scarti che ci hanno ospitato e in maniera veramente generosa ci tengono sia per fare le varie step del concorso, sia per il galà. Mi raccomando, allora avete capito bene, i posti sono limitati, da questa sera si possono reperire i biglietti presso il palazzo comunale di Sarzana. Davanti al palazzo comunale, a orari stabiliti. E proprio domani sera all'ora 21 andrà in onda un approfondimento su questo concorso, ricordando che i biglietti saranno, come si diceva nel servizio, disponibili presso l'atrio del comune di Sarzana nelle giornate di sabato, domenica e lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Uno striscione dalla scritta no alle privatizzazioni della sanità pubblica e un presidio in piazza De Ferraria Genova davanti alla sede di regione Liguria. Questa la protesta degli operatori sociosanitari aderenti ai sindacati autonomi che chiedono risposte chiare al neoassessore Angelo Grattarola. Siamo in piazza per tre ragioni, ha spiegato Espedito Morello, segretario del sindacato nazionale autonomo dei lavoratori di Genova. Il primo punto riguarda lo scorrimento della graduatoria che pare sia interrotta, siamo preoccupati per il rischio di privatizzazioni nel nostro settore e chiediamo alla regione di intervenire sui minutaggi che sono previsti dalle RSA private, che prevedono circa 7 minuti di assistenza per ogni ospite, in quel tempo noi che stiamo bene non riusciamo a lavarci e a vestirci, ha concluso Morello. E domani alle 16.30 presso l'auditorium di Ceparana si svolgerà il primo forum delle associazioni culturali e sportive di Bolano. L'iniziativa punta a far conoscere le attività previste per il 2022-2023 ed avvicinare le diverse fasce di età al mondo del volontariato e dell'associazionismo. Un'idea nata in occasione della visita al comune gemellato di Saint-Syr dove abbiamo partecipato ad un'iniziativa simile. Il target ci è molto piaciuto e abbiamo così deciso di replicarla. Le parole del sindaco Alberto Battilani. Con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze dell'utenza nel rispetto della funzionalità degli uffici e dei carichi di lavoro, il sindaco di Sarzana ha autorizzato in via sperimentale l'apertura straordinaria degli uffici demografici dell'URP ogni terzo giovedì del mese, con orario continuato dalle ore 9 alle ore 16.30. Il nuovo orario degli uffici di Piazza Vittorio Veneto è partito da ieri 20 ottobre e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022. Dopo il grande successo delle scorse edizioni riparte in Italia la straordinaria campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare Track Tour Banca del Cuore 2022. La Spezia ospiterà il track della prevenzione dal 23 al 25 ottobre. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione per il tuo cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Ultimi giorni di incontri con Vivo Sono Partigiano. La resistenza tra memoria e contemporaneità. La Biennale sulla resistenza accolta in luoghi diversi nel comune di Santo Stefano Magra. L'ultima giornata di Biennale si concluderà domani con un ospite d'eccezione il giornalista e conduttore Gad Lerner, atteso per il 17.30 all'Opificio Ex Calibratura. L'incontro introdotto dallo storico Giorgio Pagano tratterà il tema di ricostruire la memoria, la nuova frontiera della battaglia inaugurata dalla resistenza, come difendere oggi la libertà e i diritti civili. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti sono ingresso libero e gratuito. E questa sera alle 21.30 andai in onda su questo canale la quarta puntata di COINEE, la trasmissione settimanale curata da Marco Bartolini con servizi su temi di attualità inerenti alla nostra provincia. Vediamo in ente prima il sommario della puntata. Benvenuti a COINEE, la spezia di tutti, la trasmissione dedicata alla comunità della provincia spezzina. E questa è una puntata speciale, in qualche modo, tutta dedicata alle comunità dei vari comuni coinvolti dall'alluvione del 25 ottobre del 2011, che colpì al cuore la provincia spezzina. 550 mm di pioggia caduti in quattro ore, una quantità enorme di acqua che devasta le cinque terre, colpendo soprattutto Monte Rosso e Vernazza, e la Val di Vara, colpendo in particolare Borghetto Vara, dove siamo oggi. E proprio da qui parte il nostro racconto, in questo viaggio, in quei giorni tragici. In tutto nello spezzino saranno ben 11 le vittime, una a Monte Rosso, tre a Vernazza, ma soprattutto sette in questo paese, a Borghetto Vara. A portare morte e distruzione qui sarà soprattutto il torrente Pogliaschina, che portando a valle tutti i detriti, i tronchi d'albero, eccetera, arrivato all'ostruzione dei ponti che ci sono qui nel centro del paese, fa fuoriuscire il fiume, creando un disastro. E un piccolo aggiornamento, circa l'orario della puntata sarà alle 22, perché alle 21 trasmetteremo in diretta la veglia missionaria, quindi ricordiamo Coinee andrà in onda invece che alle 21.30, posticipato alle 22. E apriamo ora la pagina sportiva. Giornata di vigilia per le Aquile, partita alla volta di Salerno per uno scontro salvezza delicato, anche alla luce delle recenti prestazioni offerte lontano dal picco. Domani alle 15 un match da non sbagliare per non ritrovarsi nelle zone caldissime di classifica in vista dei prossimi impegni difficili di campionato contro Fiorentina e Milan. Un mister Gotti che ha dovuto fare via necessità virtù, risparmiando alcuni elementi che non sono scesi in campo, mercoledì contro il Brescia in Coppa, e che domani dovranno essere fondamentali per sbloccarsi finalmente in trasferta, dove Enzoa e compagni sono ancora secco di punti e di gol. Rientro fra i convocati per Rezza, che ha saltato le ultime tre partite, per infortunio, ancora out invece Covalenco e Bastoni. Per il resto un 11 di partenza che potrebbe rivelarsi molto simile a quello che domenica ha affrontato la Cremonese. E per questa edizione era davvero tutto, ora vi lascio le previsioni del tempo a cura di Limet, centro meteo per la Liguria da parte mia, l'augurio per una buona serata. Una buona serata a tutti da Paolo Bonino, vediamo le previsioni per sabato 22 ottobre in Liguria. Correnti molto umide e meridionali interessano la nostra regione, determinando molta nuvolosità e anche alcune precipitazioni, soprattutto nella giornata di sabato. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, sabato 22 ottobre. Tra la notte e la mattinata, rovesci concentrati essenzialmente sul settore centro-orientale, più persistenti nelle aree interne poste tra Genovese e Tigullio. Tempo più asciutto a Ponente, ad eccezione del Savonese orientale e l'estremo ovest imperiese, dove sarà possibile qualche pioggia. Nell'arco della giornata, attenuazione delle precipitazioni, che risulteranno più deboli e sparse nelle aree interne del settore centro-orientale, schiarite su imperiese e Savonese occidentale. Ventilazione moderata o forte intorno a sud, in attenuazione poi durante la giornata, mare molto mosso, temperature pressoché stazionarie. Lungo le coste prevediamo millimetro a 15 e 18 gradi, massime tra 19 e 22 gradi. Nell'interno millimetro a 9 e 14 gradi, massime tra 15 e 17 gradi. Se volete ulteriori informazioni, andate sul sito www.centrometeoligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di LIMET. Grazie per la visione!